questo video è dedicato soltanto a questo plateau mano a mano che me ne parlerò e vi dirò di a cosa è formato e perché è così importante mi avvicinerò vi farò vedere alcuni particolari interessanti dopo la sigla vi farò vedere soltanto le fasi di preparazione e poi cominciamo subito a parlare delle piantine e perché sono così importanti per me e per il risultato del test ci vediamo dopo la sigla vi eccoci sul canale bentornati a tutti sono orso allora mi avvicino vi faccio vedere una cosa questo parlato l'ho realizzato con l'humus lombrico e col terriccio universale che mi ha gentilmente offerto biotica quindi questo video è realizzato in collaborazione con biotica cosa ho fatto vi mostro l'immagine della preparazione del plateau ho fatto varie file di terriccio vigor plant con la zeolite e tutto vigor plant con la zeolite ma a seconda delle file ho utilizzato una quantità diversa di humus di lombrico puro quindi l'ho mischiato al vigor plant ad esempio nella prima fila ho il vigor plant e zeolite ovviamente più 15 gradi di humus puro nella seconda fila ho 25 grammi di humus nella terza fila cioè nella terza parte del semenzaio al 50 per cento quindi ho fatto esattamente metà e metà l'ultimo invece ho utilizzato il terriccio aurum che non è un terriccio da semina certificato da semina è un terriccio un pochino più grezzo è un terriccio universale ma contiene già all'interno pietra pomice per vite e humus di lombrico ero curioso di vedere se fosse stato adatto alla semina mi era stato assicurato di sì erano stati fatti dei test interni ma io prima di parlarvene volevo provare insomma queste tre file centrali dall'inizio fino alla fine del plateau sono tutte melanzane che ho seminato il 14 di febbraio come potete vedere hanno germinato praticamente tutte le piantine tutte praticamente non ho alveoli vuoti e questo è un grandissimo successo adesso sono pieno di melanzane ne avevo messe più di quelle che mi servivano e adesso hanno germinato tutte le dovrò regalare praticamente vedete la cosa interessante è che hanno germinato anche esattamente uguale agli altri alveoli anche nel terriccio aurum che appunto come vi dicevo un terriccio universale dove abbiamo gli alveoli vuoti qui ho seminato i peperoni iolo da entrambe le parti sono molto molto duri da farvi nei fori molto difficili vedete cominciamo a vedere qualcosa ma rispetto alle melanzane ecco qui questa la venuterò a uscire ci vuole un pochino più di tempo quindi questo test mi serviva per capire quanto umus e lombrico mischiare al terriccio vigor plant che di suo è già ottimo e completo io è una cosa in più che ho fatto vi ricordo che l'umus e lombrico non è un concima ma è un ammendante l'ammendante non nutre la piantina ma nutre il terreno che ovviamente poi a sua volta nutrirà le piantine quindi non è un concime che agisce sulle radici delle piantine però ci tenevo veramente tanto all'aurum tant'è che il prossimo anno probabilmente seminerò direttamente in quel terriccio lì perché ha la possibilità di nutrire le piantine per quattro settimane contro le due del vigor plant e di molti dei terricci da semina che abbiamo che o meno che io ho provato due settimane in più di fertilità e vuol dire molto e sono soldi risparmiati alla fine bene mi fermo qua tra qualche giorno vedremo lo sviluppo delle piantine e dopodiché a un certo punto chiuderò il video e lo pubblicherò ci eravamo lasciati qualche settimana fa che avevo completato questo vassoio di germinazione con varie percentuali di humus lombrico mischiato al vigor plant e alla zeolite e con una parte del trattò soltanto con l'aurum che è il terriccio universale che comprende già dentro l'humus lombrico a distanza di circa un mese dalle semine oggi è il 10 marzo qui avevo fatto la semina dal 12 al 15 di febbraio quindi sono circa 25 giorni possiamo cominciare a tirare le somme e poi chiudere il video perché è stata un'esperienza interessante e i risultati mi sembrano veramente degni di nota analizziamo adesso insieme i risultati di questa semina di circa 25 giorni io qui ho seminato il 12 di febbraio vi ricordo che oggi è il 10 di marzo peperoni peperoni quadrate vasti melanzane 1 2 3 tre file di melanzane e ancora peperone e peperone piolo ricordo inoltre che nelle prime due file avevo utilizzato un 15 grammi di humus lombrico puro in ogni alveolo la base di partenza era il vigor plant il terriccio di germinazione di qualità mischiato con la zeolite quindi due file con 15 grammi due file con 25 grammi eccole qua poi ho fatto quattro file con metà vigor plant e metà aurum e poi ho fatto le ultime quattro file soltanto con l'aurum allora mi pare che a vista d'occhio si capisca già il risultato lì dove avevo messo varie percentuali di humus lombrico abbiamo le piantine in queste condizioni qui guardate hanno tutte la seconda coppia di foglie più o meno sviluppata vedete come sono anche qui lì dove invece non avevo messo l'humus lombrico ma soltanto il vigor plant con l'aurum o soltanto l'aurum la differenza è pari a zero le piantine sono germinate tutte e questo è già un buon risultato però sono rimaste piccoline nel senso che hanno bisogno di più tempo per raggiungere questo stadio hanno tutte una coppia di foglie quindi ancora non si possono toccare sono nella fase di crescita e hanno tutte più o meno la stessa grandezza e questo è sintomatico del fatto che l'iscaldamento sotto è stato fatto discretamente bene quindi non ci sono state zone fredde e zone calde perché avevo controllato quindi le brentine sono cresciute in modo uniforme dappertutto bella notare la differenza lì dove avevo messo un po di humus lombrico anche soltanto con 15 grammi che sono le prime due file ecco qui abbiamo le piantine ben sviluppate tra 15 e 25 grammi non ci sono differenze quindi a questo punto forse a parte la durata del dell'effetto dell'ammendante naturale che è l'humus lombrico come boost è uguale 15 a 25 grammi su questi alveoli è la stessa cosa però non finisce qui perché adesso vi faccio vedere il secondo vassoio di germinazione che avevo fatto e lì la differenza è davvero eclatante eccoci qua allora qui avevo fatto quattro file solo con humus puro non ho mischiato nulla le prime quattro file tutto il resto avevo fatto con laurum allora guardate soprattutto per quanto riguarda la lattuga la differenza arriviamo qui abbiamo lattughe già sviluppate con foglie grandissime e li abbiamo le lattughe tutte germinate ma molto molto piccole qui abbiamo una fila di meloni non guardate i primi due alveoli perché probabilmente mi è scappato qualche seme di di lattuga e quindi è muta fuori lattuga e non sono venuti fuori meloni vabbè comunque ce l'abbiamo qui dietro ecco qui abbiamo tutti i meloni molto sviluppati ecco qui questo tra un po' è ora di trapiantarlo qui abbiamo i pomodori cuore di bue questi li ho seminati il 18 di febbraio le prime quattro file sono molto più sviluppate del resto del vassoio guardate già soltanto la forma delle foglie il peperoncino ciliegia non mi è venuto per niente quindi ho riseminato dei fiori ho messo il taggete ma è ancora presto e qui abbiamo il pomodoro marmand più peperoncini banian quindi come vedete qui siamo molto indietro perché li ho riseminati in tempi successivi quello che volevo proprio farvi notare è la dimensione della lattuga rispetto al terriccio universale che seppur buono ma non potrà mai competere con il lumus di lombrico puro è un esperimento ovviamente nessuno usa l'umus lombrico puro per la semina a un costo molto elevato ma ci tenevo a capire l'impatto della sostanza organica quella dichiarata dal produttore sulle piantine sulla semine e mi è sembrato un esperimento molto interessante simpatico insomma almeno sappiamo di cosa stiamo parlando bene ricordo che questo video in virtù del fatto che è l'umus lombrico mi è stato fornito in test da biotica che ringrazio avrete poi un codice sconto se vi interessa non è un codice affiliato quindi direi soltanto per voi sul sito del produttore il 10 per cento se vi interessa vi potete acquistare il lumus lombrico vi sto trovando bene ho visto che i risultati sono eclatanti almeno su alcuni tipi di colture io questo ho provato ho provato lattuga pomodoro e peperoni insomma le solenacce in genere più le lattughe e devo dire la verità risultati sono questi insomma quindi non c'è nulla da aggiungere grazie per essere stati con me anche oggi lasciate un like iscrivetevi al canale condividete con i vostri amici se vi fa piacere e sul blog unorsoincampagna.com c'è un approfondimento sull'umus lombrico in generale poi ci sono le spiegazioni e le presentazioni di vari prodotti di biotica ma come in farinatura generale è un penso un buon articolo ci vediamo la settimana prossima